Domenica 5 marzo alle Fornaci celebreremo la giornata internazionale della donna con un evento dedicato alle donne, alla solidarietà e anche all'autodeterminazione. Faremo una festa per la fraternità della visitazione di Pian di Scò, quindi un omaggio a una realtà di donne che si occupano di altre donne e proietteremo il film Persepolis, un film d'animazione che racconta l'adolescenza e l'infanzia in Iran dell'autrice. Contemporaneamente durante tutto l'evento nel foyer dell'auditorium ci saranno le donne di carta che ci diranno storie legate a personaggi femminili letterari, un'installazione a cura del progetto Artiste, un progetto adesso in crowdfunding che si prefigge di raccontare le artiste donne dimenticate nella storia occidentale e introdurranno la giornata legomanti. Quindi diciamo una festa per tutte le donne ma non solo, all'insegna anche dell'antidiscriminazione di genere.